La vera storia della serie Caradut con protagonista Irem Elvachoglu. La nuova serie ATV attesissima, Caradut, firmata da Teams e Bee Productions, una delle principali società di produzione del settore, ha incontrato il pubblico. Troverai una storia potente nella serie Caradut, che è considerata una delle produzioni efficaci del lunedì sera. Troverai la storia di Zuhal, che viene gettata via mentre cerca di stare al passo con la vita e tutto il resto, e la sua trasformazione dall'oscurità alla luce quando incontra l'amore in questa produzione. Il viaggio di Zuhal, interpretata da Irem Elvachoglu, con l'amore trascinerà la sua famiglia in un punto molto diverso. Nella famiglia Erdem circondata da regole, Zuhal cercherà di trovare le sue verità. Zuhal, che vivrà diverse prove con suo padre e i suoi fratelli in un simile ambiente, impressionerà molto il pubblico. Cosa sappiamo del personaggio di Zuhal Erdem? Ecco i dettagli. Ha ottenuto il suo successo superiore nella sua carriera di sviluppo personale grazie alla consulenza che ha fornito suo amore e relazioni ai libri che ha scritto. Sotto l'immagine di una donna forte, bella e moderna vista nei media, si nasconde un'identità completamente diversa nella sua vita domestica. È intrappolata nel ruolo di una casalinga che non può sfuggire alla protezione del padre. Le sue responsabilità verso la sua famiglia l'hanno trasformata in una donna sola, ma oserà confrontarsi con suo padre per amore che le arriva quando meno se lo aspetta.